Ciao ragazzi, allora nel video di oggi vediamo come si determinano le tensioni tangenziali dovute ad un momento torcente che agisce su una sezione chiusa e cava che possa essere considerata sottile. Quindi per farlo riprendiamo questo esercizio, che è quello che abbiamo iniziato a risolvere nello scorso video, in cui abbiamo questa sezione rettangolare cava su cui agisce una forza di taglio T2 che non passa per il centro di taglio. Ricordo che dato che la sezione è doppiamente simmetrica, il centro di taglio coincide con l'intersezione degli assi di simmetria. Quindi dato che la forza di taglio non passa per il centro di taglio, come questa che ho disegnato, che cosa succede? Che essa determina un momento torcente, cosicché questa sezione risenta non soltanto di taglio ma anche di torsione. Ecco, nell'esercizio avevamo già scomposto, meglio separato, il problema di taglio dal problema di torsione e avevamo determinato quindi che il momento torcente che agiva sulla sezione era dato da T2, che è la forza di taglio, per B mezzi. Quindi, perché il centro di taglio sta qui all'intersezione degli assi di simmetria, la forza di taglio agisce lungo questa retta, la distanza che va dal centro di taglio alla retta su cui agisce T2 è B mezzi e quindi il momento gira in questo senso perché T2 spinge verso il basso, effetto compasso. Il meno tiene già conto del verso, perché vedete, dato che il senso della rotazione è orario, vuol dire che il momento è negativo, no? Ricordate sempre che i sistemi di riferimento che utilizziamo sono ortonormali destri, quindi abbiamo che l'asse X1 è questo, l'asse X2 va verso il basso, l'asse X3, vedete, esce fuori dal foglio. Ora, un momento che ha vettore che esce dal foglio ruota in questo senso, quindi in senso anti-orario, in opposto rispetto all'M3 che abbiamo ottenuto, motivo per cui questo'M3 è negativo. Ecco, quindi utilizziamo questo esempio per vedere a questo punto come si determinano le tensioni tangenziali dovute a questo momento torcente. Poi magari vi metto il link del video precedente se volete vedere anche la risoluzione della parte relativa al taglio. Allora, dunque, dobbiamo risolvere per quello che ci siamo detti il problema di torsione. Abbiamo la sezione, sulla sezione agisce un momento M3, in quanto diretto lungo l'asse X3 che esce dal foglio, orario, motivo per cui è negativo, ed è dato da meno T2 per B mezzi, no? Questo l'avevamo ricavato prima. Potremmo anche considerare che questo nuovo esercizio, cioè la sezione è un momento torcente che vi agisce sopra, insomma. Qui ci sono le misure della sezione, tutte in millimetri, e dunque iniziamo a vedere come fare. La prima cosa che faccio è andare a riscrivermi il T2 per B mezzi facendo riferimento ai numeri. Allora, dovrei averli segnati, così non faccio su e giù. Allora, T2 è 7500 N e B mezzi, invece, è B che è 50 diviso 2, che quindi fa 25, e qui abbiamo N per millimetro. Svolgendo il calcolo, questo esce meno 187500 N per millimetro. Ecco, voglio solo essere sicuro di aver considerato bene la misura, ritorno un attimo su. Sì, la T2, vedete, è 7500 N, perfetto. Adesso sappiamo dunque il valore numerico di questo momento torcente. Come si determinano a questo punto le tensioni tangenziali? Allora, per le sezioni cave si può utilizzare la formula di Bredd, la quale cosa ci dice? che le tensioni tangenziali, le chiamo tau 3i perché chiaramente le tensioni tangenziali possono agire lungo l'asse x1 o l'asse x2, quindi possono essere tau 3i1 e tau 3i2. le indico genericamente come tau 3i, che sono date dal momento M3 diviso 2 ω per sj, dove ω è l'area racchiusa dalla linea media della sezione. area racchiusa dalla linea media, mentre sj è lo spessore del tratto su cui stiamo valutando la tensione tangenziale, quindi spessore del tratto esaminato. Questo lo sposto un po' più su. Quindi come vedete la formula è molto semplice e vediamo come quindi utilizzarla. la prima cosa da fare è calcolare ω, che come detto è l'area racchiusa dalla linea media della sezione, quindi cosa facciamo? Andiamo su ogni tratto a considerare la linea media, quindi quella linea che divide lo spessore a metà, e disegniamo, passatemi il termine, questa nuova sezione, questa che sto disegnando in verde, eccola qui. Quindi, vedete, questa è tutta l'area chiaramente racchiusa dalla linea media della sezione. Eccola qua. Ora dobbiamo vedere quanto vale. Allora, sullo spessore sul tratto orizzontale, come lo calcoliamo? Ebbè, il tratto orizzontale lungo 50, dobbiamo togliere mezzo spessore a sinistra e mezzo a destra. Lo spessore di questa sezione è costante, vale 5 mm, quindi facciamo 50 meno 2,5 qua, meno 2,5 qua, esce 50 meno 5, ossia 45 mm. Questo è 50 meno 5, che quindi è 45. Sul tratto verticale, invece che cosa abbiamo? Abbiamo 100, perché l'altezza è 100, poi di nuovo dobbiamo togliere 2,5 e 2,5, quindi 100 meno 5 ed esce 95. Possiamo allora concludere che ω, ve lo scrivo qua, ω, che è l'area racchiusa dalla linea media, è data da 95 per 45 mm, per mm fa mm quadrati ovviamente, perché ho un'area, e quindi il calcolo ci dà 4275 mm quadrati. Quindi abbiamo calcolato il termine al denominatore, fatta eccezione chiaramente per lo spessore che dipende dal tratto che andiamo a considerare. Vi faccio notare una cosa, a differenza delle altre formule che abbiamo visto nei video precedenti, in questo caso al denominatore della tau compare un'area, non compare un momento d'inerzia. Questo che vuol dire che quando abbiamo a che fare con un componente per il quale dobbiamo minimizzare le tensioni tangenziali dovute alla torsione, quindi abbiamo un componente sottoposto a torsione e vogliamo minimizzare le tau che si creano all'interno del corpo. Possiamo semplicemente considerare dei corpi cavi, non è necessario che li facciamo pieni, perché la formula di Brett ci dice che la tau è tanto più piccola quanto il denominatore più grande, ossia quanto è più grande l'area racchiusa dalla linea media, tanto vale a questo punto fare i corpi cavi con un risparmio di materiale, costo eccetera eccetera. Ecco, questa era un'osservazione che volevo fare. Detto ciò, dunque nel nostro caso abbiamo che la tau 3i è quindi uguale a meno, al posto M3 sostituiamo il momento che abbiamo ottenuto, quindi 187.500, sì, 187.500 diviso 2 per 4.275 per Sj. Ora qui ne sto mettendo le unità di misura perché tanto sappiamo, perché l'abbiamo detto in altri video, che quando utilizziamo Newton per le forze, millimetri per le lunghezze, le tensioni vengono sempre espresse in megapascal. E adesso dobbiamo andare a vedere che cosa succede sui tratti verticali, su cui quindi agisce una tau 3i2, perché siamo lungo l'asse x2, e sui tratti orizzontali, su cui agisce una tau 3i1, perché appunto sono paralleli all'asse x1. Ecco, in questo caso lo spessore è costante su tutta la sezione, quindi tanto i tratti verticali, tanto i tratti orizzontali hanno spessore 5 mm, allora possiamo dire che la tau 3i1 è uguale alla tau 3i2, se avessimo avuto spessori diversi su ogni tratto, invece a seconda che fosse orizzontale e verticale, o anche se la struttura non era simmetrica, dovevamo considerare lo spessore di ogni tratto che consideravamo, quindi tau 3i1 del primo tratto, tau 3i2 magari del secondo tratto, la tau 3i1 del terzo tratto, eccetera, eccetera. Nel nostro caso siamo avvantaggiati, abbiamo 187.500 diviso 2 per 4.275 per lo spessore che è uguale a meno 4,39 MPa. Ecco, magari qui dove comunque abbiamo sostituito lo spessore il MPa lo inseriamo. E dunque questo è semplicemente il valore delle tensioni tangenziali dovuto al momento torcente. Per quanto riguarda il grafico, anche il grafico è molto semplice, allora vado a riprendermi la sezione in modo che non la ridisegno da capo, mi riprendo questa sezione qui. Eccola qua. Ridisegno il momento torcente che è un momento M3 in senso orario. Ecco, e com'è lo facciamo il grafico? Anche il grafico è molto semplice perché immaginate che questa sia la vostra sezione per dare un momento torcente voi fate questo movimento, no? Utilizzando l'attrito andate a ruotare in questo modo oppure viceversa potete immaginare di avere una bottiglia o meglio un tubo e applicare appunto una torsione. Che cosa succede? Che le fibre, voi avete un corpo chiaramente tridimensionale, lo tagliate e vedete che cosa succede sulla sezione, ecco. Dunque le fibre che avete tagliato fondamentalmente tenderanno a muoversi seguendo il momento torcente, no? Il che vuol dire che su questa sezione il flusso delle tensioni tangenziali dovute al momento torcente sarà un qualcosa di questo tipo. Sul tratto verticale va giù, qua va verso sinistra, poi sale su e poi va verso destra perché vedete abbiamo dovuto seguire il momento M3. Ora si disegnano quindi dei rettangolini per far capire appunto che le tensioni sono costanti sul tratto. Notate che questi rettangolini li facciamo più o meno tutti della stessa lunghezza in quanto la lunghezza rappresenta il valore della tau, dato che abbiamo detto che la tau 3.1 è uguale alla tau 3.2, sia sui tratti orizzontali che sui tratti verticali il valore è lo stesso. Queste sui tratti verticali sono le tau 3.2, queste sui tratti orizzontali sono le tau 3.1. Potete anche considerare di fare dei rettangolini laterali che vi facciano capire più o meno quanto è grande direttamente a colpo d'occhio il valore della tau 3.2, nel senso che fate dei rettangolini fatti così. Se ci riesco. Dei rettangolini si sono tratti orizzontali che sui tratti verticali che vi fanno capire quanto vale appunto la tau. Come al solito questa è la tau 3.2, questa è la tau 3.1. Diciamo che questi rettangoli acquistano molto senso nel momento in cui la sezione ha spessori differenti, perché se la sezione avesse avuto spessori diversi, immaginate questo rettangolo magari vi veniva più grande di quest'altro e allora potevate direttamente vedere che la tau 3.1 era molto più grande della tau 3.2. Nel nostro caso dove gli spessori sono uguali, quindi anche questi rettangoli sono uguali, ecco non abbiamo aggiunto chissà quale grande informazione attraverso questi due disegni, però lo facciamo. Anche molti professori lo richiedono come grafico all'esame, quindi lo lasciamo. Ecco detto ciò possiamo considerare concluso il problema in quanto abbiamo determinato le tensioni tangenziali dovute al momento torcente, abbiamo fatto i grafici e basta. Quello che potremmo fare è rimettere un po' insieme i pezzi, nel senso che nel video precedente avevamo determinato le tensioni tangenziali dovute al taglio. In questo video stiamo determinando le tensioni tangenziali dovute al momento torcente. Ecco, possiamo unire i due grafici delle tensioni tangenziali perché dal taglio avevamo ricavato lui. Facciamo così, scriviamo unendo i risultati. Questo era il grafico delle tensioni tangenziali dovute al taglio. Poi abbiamo lui che è il grafico delle tensioni tangenziali dovute alla torsione. Allora da questi due grafici che capisco? Che per quanto riguarda il taglio, il punto della sezione in cui le tensioni tangenziali dovute al taglio assumono un valore massimo, sono i punti come K2, perché abbiamo questo punto qua e chiaramente lo speculare dall'altra parte. In K2 chiaramente non ci sarà solo la tau del taglio, ma ci sarà anche la tau della torsione, quella che sta qui. Ora, dato che queste due tau vedete che hanno lo stesso verso, scendono entrambe verso il basso, il loro valore si somma. Quindi potremmo dire che il valore assoluto della tau 32 calcolata in K2 a che cosa è uguale? Al valore che avevamo ottenuto con il taglio, che era, andiamo a vedere se lo troviamo subito, 9,48 megapascal. Dato che non sto considerando il segno, lo prendo direttamente, prendo solo il modulo, quindi abbiamo detto 9,48 megapascal e poi aggiungiamo, quindi anche per quanto riguarda il momento torcente non considero il segno, il 4,39 megapascal dovuto alla torsione, il che vuol dire che il momento torcente, che la tensione tangenziale totale in questo punto vale 13,87 megapascal. Ecco questo è il modo in cui fondamentalmente si uniscono, meglio si trovano i valori totali delle tensioni tangenziali mettendo insieme i risultati derivati dal taglio con quelli derivanti dal momento. Se avessimo voluto farlo in K1, vedete in K1 anche le tensioni hanno lo stesso verso. Se invece al posto di K2 avessi preso il punto questo, chiamiamolo K3, vedete che taglio e torsione, che le tensioni tangenziali dovute al taglio hanno verso opposto rispetto alle tensioni tangenziali dovute alla torsione, quindi quando facevate la somma dovevate in realtà fare la sottrazione, dovete fare l'una meno l'altra perché chiaramente erano discordi. E questo conclude fondamentalmente l'esercizio e il video iniziato la scorsa volta. Spero che sia stato tutto chiaro e noi ci rivedremo nel prossimo video in cui analizzeremo come determinare le tensioni tangenziali dovute ad un momento torcente, quando però abbiamo a che fare con una sezione che non sia cava, quindi una sezione sottile, non chiusa. E poi vedremo anche come lavorare invece con le sezioni circolari. Perché sempre cave? Perché la formula che abbiamo utilizzato oggi, la formula di Brett, è una formula approssimata. Ci sono invece alcuni casi, come ad esempio quelli delle sezioni circolari cave, in cui è possibile utilizzare una formula esatta. E quindi in un prossimo video vedremo anche quello. Io spero sia stato tutto chiaro, come al solito vi lascio i vari link in descrizione e nulla. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!